Non hai mai visto? A che servono i fenomeni fisici, per esempio, gli apporti? Commento Tu parli così perché non hai mai visto, per esempio presso il cerchio umanità e movimento, una madre ricevere dal figlio trapassato un portachiavi in argento che lei gli aveva regalato per il suo compleanno e che lui aveva perso. Puoi dire che quella dolcissima commozione non è servita a quella madre?